Allora passiamo alla radio che non si sente niente Ciao a tutti ragazzi, sono Leandi ed oggi siamo qua in questo nuovo vlog Siamo qua in un vlog Allora, tra pochi giorni io parto per Ibiza Ma prima di andare sono venuta con il mio ragazzo a Torino Martedì andiamo a visitare il Museo Egizio Ci sono venuta diverse volte a Torino Ma ancora non abbiamo Non abbiamo ancora avuto l'occasione Ciao a tutti Buongiorno ragazzi, io e Alex Ah voi non lo sapete come si chiama, si è presentato Ah si, è idiota il primo video Ah, è vero Sì sì è vero Allora io e Merego ci siamo andando No, stiamo andando al vostro Egizio Adesso vediamo com'è 5 metri siamo arrivati 5 Per dire, fa per dire diciamo Comunque questa è la via bellissima tipo Io adoro diciamo queste cose Questi palazzi andichi Se vuoi dopo andiamo al nuovo locale di Canavacciuolo Il bistrot Veramente? Ed è là lui? Eh non lo so, può essere Ragazzi siamo arrivati a destinazione Sì Mi stavo dicendo che io adoro questo colore dei muri Tipo il rosso marrone E mi dice che è molto antico Siamo lì martedì dalle 9.18.30 Che ora è? Eh cazzo sono le 10.10 Ah sono già le 10 Oggi siamo svegliate alle 8 Molto breve Per il lungo E poi siamo andati a percorazione Adesso siamo arrivati qua Ragazzi c'è le Andy Io ho quel palazzo Io ho lavoro Di qualcosa Ciao ragazzi sto guardando quel palazzo E' fantastico E' fantastico E' fantastico Vedete che bella vista E' il colore Siamo pronti per andare E' fantastico E' fantastico Ma non c'è scritto nulla Ma non c'è scritto nulla Se ci fosse scritto Vabbè Non vuole salire a fare la forza E' fantastico E' fantastico E' fantastico Ciao E' fantastico E' si Questa è veramente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti